Frustace Lionello, portiere da sette generazioni. Per queste occasioni ha il repertorio tre frasi cult che ripete nello stesso ordine da vent'anni. Questi vengono in Italia e si pensano di fare i padroni. E questa era la prima. La seconda è più ricercata. Ma che segreto che sono al paese loro che possono fare come gli pare? E con la terza ci vincerebbe le elezioni. Io li caccerei a calci nel culo. Tu sei italiana? Sì. Brava. La valigia? Ah, grazie. Ci portiamo da soli? Purtroppo c'è molta maleducazione in giro. Ma perché io non sono razzista? Ma prendi i negri. È scientificamente dimostrato che sono inferiori proprio a livello celebrato. E lo dimostra pure il fatto che quando sono andati in America dall'Africa si sono messi per gli schiavi. Invece noi italiani quando siamo andati in America subito abbiamo creato la mafia. Lo vedi che è proprio un altro livello di organizzazione, di creatività. È il Made in Italy.